Tu cosa fai qui, bambina? Voglio divorziare. Che vuoi? Divorziare. Guarda come sei bella. Io ti do liberamente, in sposa, la mia figlia onorata, no giù. Oggi è venuta una bambina in tribunale, vuole divorziare. Io non so che fare. La legge non impedisce questi matrimoni. Starà bene come stava a casa tua. Hai la mia parola. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Vieni qui. Non mi toccare. Sazzita. È vero che molte si sposano giovanissime, ma nessuna è mai venuta qui a chiedere di divorziare. È un caso difficile. Non lo so, non lo so dove ci porterà tutto questo. Forza, torna a casa. Piuttosto, mi butto di sotto. Non è stata tirata su come si deve, è qui per rovinarci la reputazione. Madre, lui mi fa male. Mi fa fare le cose brutte. Lui è tuo marito. Ha tutto il diritto di farlo. Sì, ho dormito con lei. È mia moglie. Che ci eri sbagliato? Quindi ha avuto rapporti con lei, anche se ha solo dieci anni? L'ho sposata con il consesso del padre. Allora, quale reato ho commesso? Ditemelo voi, io non lo so.